Ciao, sono Andrea Iacomino, ho 44 anni, sono del 1977 e sono un attore. Sono nato a Napoli e vivo a Roma da 25 anni, dove mi sono diplomato alla scuola di recitazione di Cristiano Censi e Isabella Delbianco. Poi ho iniziato a lavorare a teatro, fare varie tournée, poi ho iniziato un po' la TV con alcune fiction, tra cui la squadra, Distretto di Polizia, Le Tre Rose di Eva. Poi spot pubblicitari vari, qualche cosa al cinema, Il crimine non va in pensione di Fabio Fulco e sono un attore anche di fotoromanzi.